Salve mister, non faccio la domanda, faccio a lei la disamina perché ci sono molte sfaccettature sia dal punto di vista di quello che è successo in campo sia dal punto di vista anche arbitrale, mi pare che si è arrabbiato un po'. Mi piace parlare della partita, ho fatto complimenti ai miei giocatori per il gioco espresso, siamo ritornati a giocare come tre partite fa perché avevamo interrotto il nostro gioco, abbiamo fatto due non belle partite contro il Parma e contro la Sampdoria anche per merito delle due squadre ma soprattutto noi non abbiamo espresso il gioco che voglio io. In questo momento è importante creare delle idee ben precise da trasmettere alla squadra, stiamo facendo bene, oggi abbiamo ritrovato questo aspetto e è la cosa che mi interessa di più. Se poi si vuol parlare dell'arbitro credo che basta, ho già fatto il giro delle televisioni, mi sa che sono già state commentate, le sapete le mie opinioni quindi non devo dire altro. Ma ripartire da zero, ho detto per esempio le due ammunizioni soprattutto la Dalvares che già stava cadendo non era da munire, non sarebbe probabilmente stato espulso, non saremmo rimasti in dieci in un momento in cui come abbiamo fatto anche per tutta la partita, abbiamo dal punto di vista del gioco messo in difficoltà il Napoli, potevamo ancora ribaltare totalmente il risultato e siamo rimasti in dieci per questa decisione. Poi ce ne sono state altre anche perché dal campo si sono viste tanti falli uguali a quelli di Alvarez anche dall'altra parte, non sono stati sanzionati col giallo, quindi anche come uniformità di valutazione ci sarebbe molto da ridire. C'è stato un fallo di Albiolo di Mano che poi è venuto il rigore per noi di Palazzo non dato e tutti questi episodi hanno fatto sì, soprattutto che noi siamo rimasti in dieci oggi per il derby col Mila e di un giocatore importante come Alvarez. La prestazione di Kovacic nel secondo tempo e se la sua qualità può essere importante anche per cambiare ritmo durante le gare, che è un po' quello che è mancato nel primo tempo. Sì, ma guardate, nel primo tempo è mancato poco, è mancato di fare gol quando ci è capitato e di non fare quegli errori, tipo il primo sul taglio di mettere la palla con la testa su piedi di un calciatore fenomenale come Higuain. Perché il primo tempo siamo partiti bene, si è giocato molto bene, è vero che poi Kovacic quando è entrato ha fatto molto bene. È chiaro che se avete visto le ultime partite dell'Inter, quando si gioca con tutti i giocatori offensivi si è sofferto tanto le ripartenze delle squadre avversarie. Kovacic per ora ha molte doti in fase d'attacco, ma meno in fase di equilibrio gioco. Ecco perché inizialmente ho rifatto giocare la squadra che aveva fatto bene prima e tant'è vero che oggi ha rifatto molto bene dal punto di vista del gioco. Mister, buonasera. Pur ammettendo che ci sia stato qualche errore dell'arbitro, però tutto sommato un Napoli rabberciato in difesa, col fatto che ha avuto tre giorni per giocare, lei ha potuto preparare la partita tutta la settimana. Il palo preso da Insigne, il rigore sbagliato, quattro gol per una come lei che è sempre stato molto attenta alla fase difensiva, non è eccessivo. Quello della fase difensiva, oggi chi l'ha fatta le ripartenze? Chi ha fatto il gioco? Allora vuol dire che quattro anni sono stato qua e non si guardavano le partite, che noi si è giocato quasi sempre come oggi ha giocato l'Inter. Qualche volta, per le caratteristiche dei giocatori che avevo a disposizione, quando ci costringevano ad abbassarsi, si faceva delle ripartenze come oggi ha fatto il Napoli, che ha giocatori adatti a fare questo tipo di calcio. Io dico che se lei mi ha... ora, le scusanti del Napoli è normale che ci possano essere, quando c'ero io che si faceva le coppe, lo dicevo, era un'altrettante giustificazione quella che ha detto lei. Chi fa le coppe è normale, deve avere una rosa adeguata, ma il Napoli ha anche una rosa quest'anno molto diversa da una rosa che c'è stata per quattro anni di seguito. E quindi, per darsi questo, a me in questo momento non mi deve interessare, a me deve interessare quello che ho visto sul campo. E quello che ho visto sul campo è questo, lo dice il possesso palla del primo e addirittura quando siamo rimasti in dieci contro undici, anche nel secondo tempo abbiamo ancora più possesso palla. Questo la dice lunga su come, ora parlo per me, che alleno l'Inter, che come cresce questa squadra. Va su un campo come il San Paolo, come il Napoli, eccetera, eccetera, e impone il gioco. Questa è la cosa che a noi ci interessa in questo momento. Poi a volte il risultato ci va bene, a volte ci va male. Abbiamo avuto la sfortuna di un arbitraggio sfortunato, come quello che nelle uniche due sconfitte abbiamo fatto, anche con la Roma. Può aver inciso sul risultato finale, come capita spesso. E quindi questa è la mia disamina tranquilla e lineare per quello che ho visto io oggi. Mister, buonasera, sono qui. Buonasera. Tornava qua dopo quattro anni d'avversario per la prima volta, le sensazioni e poi sull'accoglienza dei tifosi, anche in questo caso un po' divisa tra quelli che l'hanno accolta bene e altri che l'hanno accolta meno bene. Per concludere poi rapidissimo, l'organico di quest'anno del Napoli confrontato al suo, quale è superiore? Ma mi sta prendendo in giro a fare l'ultima domanda? Ma ragazzi, ma i numeri, tutte le cose che ho detto per quattro anni, ma basta valutarle. Vedete da dove sono stati presi i giocatori quest'anno e da dove venivano presi, che parametri aveva la società in quel momento e che parametri ha ora. Basta, dovete farlo da voi queste cose, ci vuole poco, non ci vuole, basta starci attenti. Guardate gli acquisti da dove sono venuti quando c'ero io, cosa si è fatto, da dove siamo partiti e quello che da quando sono andato via io è successo d'estate e dopo. Fatele voi queste considerazioni. Ripetela, mi ricordi la... L'accoglienza dei tifosi io sapevo benissimo che chi sa davvero come sono andate le cose mi applaudiva e mi faceva lo striscione. Chi non le sa, gli altri gli sono state date in pasto le cose convenienti per far sì che si dovesse pensare a questo, hanno fatto qualche fischio, ma nemmeno più di tanto. Poi quando ha cominciato la gara ha pensato, come fa sempre la gente di Napoli, a tifare per il Napoli, gli ha dato una grossa mano per mettere l'Inter in difficoltà. Mister Berritrovato, a distanza di mesi, lo possiamo dire il vero motivo per il quale sei andato via da Napoli? Perché ci avevi lasciato dicendo, poi vi dirò tutto dopo la Roma e siamo rimasti... Ragazzi, ma ho fatto, voi siete, l'ho fatto apposta, ho fatto esattamente, sono stati bravi i giornalisti, il mattino a riportare fedelmente come sono andate le cose. Quella è la verità, è costatabile. Basta. Poi ho fatto un'intervista al Corriere della Sera che ho detto più o meno le stesse cose. Quando mi è stato blime è stato chiesto meno di Napoli, giustamente il mattino mi ha chiesto di Napoli e ho detto le cose come sono andate esattamente. Finito. Quante volte le devo dire? No, no, basta. Ho detto anche troppo, ora c'è da pensare alle partite. Non vuoi parlare di mercato, quindi non ti chiedo dei nomi perché non li faresti, ma di quanti giocatori pensi di avere bisogno a gennaio? Uno, due, tre? Mi fa una domanda. Non lo sai che non te lo dico, è inutile che me lo chiedete. Lo dico quello che penso alla società, poi ci sono tante altre cose da valutare. Dipende da tante cose. Per esempio il fatto che Milito, noi pensavamo di recuperarlo, Milito con Milito, avete visto? Milito è un giocatore che prima che si facesse male è a livelli di Guai. Cioè, sono grandissimi, sono campioni. Cioè, i campioni fanno la differenza. È normale. Se si vuole pensare a questo, noi con Milito probabilmente avremo più punti. Basta un giocatore di grandissima qualità, superiore alla media. È normale. Walter, scusami, qua. Buonasera. Ciao. Dal punto di vista psicologico, in vista del tuo primo derby di Milano, credi che sia più pesante arrivare a questa partita dopo oltre 40 giorni che l'Inter non vince, ovvero dopo tre pareggi e una sconfitta? Quanto sia più possa pensare invece dall'altra parte il fatto che stasera hai rivisto la squadra che volevi dopo due prestazioni negative? È più importante aver rivisto la squadra che gioca come ha giocato per 10-12 partite. All'inizio ha sbagliato le ultime due, dove sono venuti due meritati pareggi, dove non abbiamo meritato di vincere, come in altre partite dove avevamo meritato di vincere. tipo Bologna, tipo Cagliari, tu le sai le partite dove abbiamo giocato ancora meglio di oggi e purtroppo abbiamo perso dei punti, probabilmente anche per un arbitraggio tipo oggi a Torino, dove abbiamo giocato bene, purtroppo abbiamo gettato due risultati al novantesimo, tipo ritorno a dire Torino e con la Sampdoria, pur non avendo giocato bene e la Sampdoria ha meritato il pareggio, però l'abbiamo ottenuto al tempo scaduto. Insomma, sono tutti punti persi che purtroppo in un anno di crescita, dove si è fatto tante cose, si sta perdendo punti per leggerezze, per cose in cui bisogna ancora migliorare e crescere. Grazie a voi.